Domani a Macerata si inaugura la nuova sede dei giudici di pace a Palazzo Trevisenigaglia. L'ordine degli avvocati di Macerata è stato invitato alla cerimonia di inaugurazione, ma lei, Presidente Ghio, ha già anticipato che non andrà. Perché? Perché le inaugurazioni sono dei momenti di condivisione di un progetto. Quindi il Comune di Macerata ha inteso trasferire i giudici di pace in un posto dove noi non riteniamo che sia l'ideale rispetto alla naturale predisposizione del pannaggi e quindi non condividendo non possiamo partecipare ad un'inaugurazione. Sarebbe non coerente rispetto a tutte le posizioni espresse fino ad oggi. A un anno dall'entrata in vigore della riforma sulla geografia giudiziaria, com'è la situazione dell'accorpamento anche del Tribunale di Camerino a quello di Macerata? Qual è la situazione qui nel Palazzo di Giustizia maceratese? Dunque, l'accorpamento sostanzialmente ha prodotto dei benefici e alcuni problemi. I problemi ovviamente sono strutturali, nel senso che comunque gli spazi sono diminuiti e quindi abbiamo la necessità di avere nuove metrature per i nuovi dipendenti e anche per coloro che verranno, se viene qualche magistrato nuovo o qualche dipendente nuovo. Sotto un profilo invece funzionale è una sorta di razionalizzazione positiva. Naturalmente all'inizio è stato molto complicato perché ovviamente l'atto organizzativo di per sé era già un problema, però oggi sostanzialmente le cose vanno meglio, il numero di magistrate macerata seppur non ancora completo comunque consente una diminuzione dei tempi del processo e quindi sostanzialmente potremmo dire di essere soddisfatti. Ovviamente qui a Macerata perché nel territorio nazionale poi questa riforma può aver creato problemi e ci sono vari problemi in giro rispetto ai tribunali accorpanti.